Truffa dei finti carabinieri a Sansepolcro, altre due denunce. Questa volta i militari dell'arma sono riusciti ad anticipare le mosse dei truffatori, due uomini provenienti dal sud Italia che viaggiavano a bordo di una utilitaria. Dai loro telefoni sono emerse chat di whatsapp contenenti informazioni precise su dove andare e chi contattare per ritirare la cosiddetta cauzione, un trucco che sfrutta la falsa credenza diffusa dalla cinematografia americana. Stavolta però è andata male e all'appuntamento si sono presentati i carabinieri veri. L'anziano, ultraottantenne biturgenze in lacrime, ha aperto porgiando subito denaro e gioielli ed è stato immediatamente rassicurato. Sarà ora compito dei carabinieri, quelli veri, identificare il terzo soggetto che ha avviato la telefonata raggirando l'anziano, mentre i due fermati dovranno rispondere davanti ai magistrati aretini del tentativo di truffa in concorso.